Vittorie in estremisi per il Bivongi che supera di misura il Tropea. 1-0 il risultato finale al cinquantesimo del secondo tempo per quanto riguarda la partita di prima categoria girone C. La partita ha avuto un inizio un po' infelice in quanto al quattordicesimo del primo tempo è stato annullato un gol al grande Lioi Alfredo che rientra a Bivongi dopo una pausa con la Stilese. La partita ha avuto un esito piuttosto infelice alla fine perché contestazioni tra entrambi le formazioni al fischio finale soprattutto da parte dei dirigenti che hanno contestato all'arbitro alcune decisioni. L'incontro ha avuto quindi un esito favorevole per la squadra di casa con un gol di Russo Mattia che ha segnato al quarantottesimo appunto del secondo tempo in pieno recupero il gol della vittoria. E da Bivongi è tutto, Giorgio Medastasio per Tele Soverato.